Mangiare con 3,50€ al centro di Salerno Prima tappa friggitoria sabatino Con calzoni fritti e pizzette ad 1,50€ Io vi consiglio quello con la scarola Spaziale Per la seconda tappa seguite il profumo di dolci Arriverete da giallo limone 3,50€ per un muffin e una cassata infornata E che cassata infornata?